Allora Salvo, siccome sai che io non mi firo di dire, perché tu testa non ne hai, cioè sei un imprenditore d'occhio ma testa non ne hai più perché fai troppe cose. Allora il locale ce l'abbiamo, giusto? Domani lo sgomberiamo. Il palco c'è? Fatto. Il tavolo per i giudici c'è? Fatto. Le lavagnette ci sono? Combrate. E chissà, le casse, il fonico c'è? Tutto a posto? Tutto. Il mangiare lo sta preparando? Certo. Il sale? Non mangiare. Non lo mangiare. Il sale? Non lo mangiare. Il sale? Il sale? Al bucchino. Domani si mangia il sororio. Quindi domani col sale. Il sale? Il sale? Vabbè. E allora vi ho. E ci ho pensato io? Io non saprei cantare solo currobetta, acqua e sale. Quindi vi aspettiamo qua domani, terrazza dello chef. Vince una canzone, ore 20 e 30. Ancora c'è posto salvo, qualche posto. San Pietro Clarenza. San Pietro Clarenza. Una decina di posti. Una decina di posti a quale ce la c'è? Usali, lavi, che ci ho putto a uco, a poco. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, va. Ragazzi c'è tutto, c'è magari usali. Ci vediamo domani, ore 20 e 30, terrazza dello chef. Vince una canzone. Chi vincerà? Domani prima puntata. A domani. Chi vincerà? Chi vincerà? Chi vincerà? Chi vincerà? Chi vincerà?